Ciao, ti mando questo video perché ci tengo a condividere con te la mia testimonianza su ciò che ho vissuto domenica al corso di Patrizia Sette Educati. Abbiamo fatto il corso a Reggio Emilia, si chiamava Risveglia il tuo potere interiore con l'aiuto degli angeli e così è stato. Sono un paio di giorni che sento un'energia di una potenza pazzesca, è come se mi ribollisse il sangue, è una sensazione bellissima perché proprio mi sento potente, sento che il mio potere sta uscendo, ha voglia proprio veramente di uscire e di espandersi a tutto attorno. È stata una giornata splendida nella quale abbiamo partecipato veramente in tanti, se considerate che abbiamo organizzato la giornata in appena 7, massimo 10 giorni, eravamo in più di 40, venivamo da tutta Italia e la cosa splendida è stata anche vedere famiglie intere, coppie, persone che non avevano mai fatto nulla dal punto di vista personale, altre persone che invece lavorano su se stesse da anni. Questi sono percorsi che non sono per pochi, ma sono per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e di stare bene. Io personalmente, vabbè, io seguo Patrizia da un po' di tempo e faccio un lavoro per me stessa da un po' di tempo, ma adesso finalmente io respiro. Io proprio respiro perché mi sono concessa di attraversare le mie paure, di guardare in faccia le mie emozioni negative, la rabbia, l'ansia, e tutta una serie di cose che mi accompagnavano sin da quando ero piccola e ora che sono riuscita ad affrontarla, con anche il coraggio, con tutta la dose di dolore, di lacrime che ne consegue, io adesso proprio bene. Quindi io consiglio a tutti di partecipare a queste giornate, a questi eventi, anche solo dei seminari brevi, insomma, venite con noi, perché poi la ricompensa dal punto di vista proprio personale, della gioia e dell'ossigeno che si respira dopo queste giornate è veramente tanta. Nonostante io lavori su me stessa da tanto tempo, comunque ogni volta ho l'occasione di fare un altro passettino, non si è sempre pronti a lasciare andare tutti in una volta. Io personalmente sono una persona che ha tante, tante, tante resistenze e anche domenica ho fatto un passettino, ho lasciato andare un po' di paura, ho affrontato ancora qualcosa e oggi ne sono veramente felice, sono proprio felice di quello che è successo. Quindi grazie sia a Patti che ai miei compagni di corso e anche a tutti coloro che si sono concessi di partecipare. È stata una gioia essere tutti insieme nella palestra SD Bulldog a Reggio Emilia dove si allenano dei guerrieri veri perché è una palestra di arti marziali e per una volta si sono allenati dei guerrieri di luce. Io mando un abbraccio a tutti proprio con l'invito a non aver paura. Seguite quella voce interiore nel cuore che vi fa dire io ho voglia di stare bene, io ho voglia di stare bene. Ciao, un abbraccio a tutti! Grazie a tutti!